Un risco, un rifai, arriva al fondo dell'anello e dici, ok, mi riposo, attimo di silenzio, lei schiaccia, Renu, bene, bene, ma la prima era un po' sporca, la seconda era un po' molle, la terza era un po' corta, nella quarta mi fai sentire il sopracciglio quando si alza mentre ancora... E' vero, perché sono pignola, però anch'io l'ho avuto in direzione. Quando invece ha Leggio e tu le dici, io per premura Leggio, Deborah, Deborah, non ti stancare, aspetta, no, 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 fammela finire, posso per cortesia farla tutta e poi mi dici quello che non fa e quello che va, grazie. Io sto cercando di capire cosa devo fare e anche metterci qualcosa del mio, no? Se uno mi arriva e mi fa, Deborah, posso mi fai saltare per aria? Sei falsa, perché io non faccio così e dico, Deborah, se non mi vuole... Perfetto.